La Turris torna in campo allo stadio Amerigo Liguori domenica alle 14.30 per l'ultimo match casalingo del girone di andata contro il Messina allenato da Ezio Capuano. I Corallini sono reduci da un non esaltante 0-0 in trasferta contro il Potenza, squadra che occupa la penultima posizione in classifica, preceduto dalla sconfitta sul proprio terreno contro Lavellino e quindi serve di cominciare a mettere da parte punti pesanti nella corsa di un posto nei play-off in cui la squadra di mister Caneo si è fino ad ora abilmente e meritatamente inserita. L'impegno contro i peloritani sulla carta sembra essere il miglior viatico per riprendere la marcia, dato che i giallorossi sono ancorati sul fondo della classifica, ma l'attenzione, specialmente in partiti apparentemente più abordabili, dovrà essere tenuta alta sia dal mister che dai giocatori. Lorenzini ritorna titolare dopo il turno di squalifica, mentre si valutano le condizioni di Santaniello indisponibili nell'ultimo turno. Su fronte di Novi, Tascone prolunga di un anno l'accordo con la Turris, saluta invece Gioffre che ha appena rescisso il contratto.